Allora, al di là del gol personale, credo che la tua prestazione sia stata importante, soprattutto perché lavori con i tempi giusti, con i tempi che vuole Colombo, però credo che ci sia qualcosa da migliorare in fase propositiva, sei d'accordo? Sì, sì, quello sicuro, stiamo lavorando bene, soprattutto oggi, su quello che vuole il mister, sulle uscite, sulle coperture preventive, dobbiamo migliorare la fase di possesso, la fase di uscita, essere più puliti, più bravi e perdere meno palloni. Però di sicuro quello che fai tu, cioè andare a cercare sempre l'anticipo in fase difensiva, alzarti molto è quello che ti chiede l'allenatore? Sì, sì, a me poi piace farlo, quindi mi trovo anche bene, però è quello che ci chiede l'allenatore.